sabato mattina acqua adesso vi sparo un bel albicocca bastarda volevo farvi vedere allora praticamente ho preso questo cd che sono tutti i remix di mobi carino non mi fa impazzire tanto ci sono delle versioni strane e poi è mixato da far schifo poi questa corona sonora qui che praticamente ho preso insieme a Marco, cioè l'ha comprata Marco perché ci sono dei progetti in futuro di fare un nuovo IT poi ovviamente ragazzi per gli amanti dei Daft Punk, guardate cosa è uscito aspetta ve lo faccio vedere guarda eh è devastante sono vari remix forse ce n'è qualcuno che lo hanno messo in altre robe poi c'è un cd con un sacco di roba dentro roba per Ascanfor e poi questo questo ragazzi ve lo consiglio perché spacca guarda guarda lui eh lo mettiamo anche in sample sono 12 tracce però basta le mixano tutti lasciatele normali così io le posso tagliare e le metto in onda invece le mixano e vogliono fare gli alternativi comunque c'è una bella giornata oggi 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 è una bella giornata tra poco vado a fare la roba della Citroen a Varese e stasera Vignole Borbera chi sei tu aiuta no non c'è nessuno vabbè niente buon weekend a tutti da Wender ciao ehi vi sta guardando ragazzi tutta a posto a ferragosto ciao